8 e un quarto del mattino, stazione delle Corriere di Castelfranco Veneto. Alla centrale del 112 viene segnalata una lite tra ragazzi, urla, spinte, una decina ai giovanissimi tra i 14 e i 19 anni coinvolti e identificati da tre pattuglie dell'arma immediatamente arrivate sul posto. Quattro di loro rischiano ora un provvedimento amministrativo, un dasp urbano di allontanamento dalla stazione che li costringerebbe per un lungo periodo a rinunciare al trasporto pubblico. Non solo ragazzi di Castelfranco ma studenti provenienti da tutta l'area della Castellana diretti alle scuole superiori della città. Tensione, trambusto ma nessuno si è fatto male tanto che tra i ragazzi che più tardi verso le 13 tornano ad affollare le piazzole di via Podgora, gira voce che si sia trattato di un gioco scambiato per una zuffa. Mi hanno detto che due amici che nessuno conosce, questi due qua si sono solo visti ma nessuno sa chi siano, stavano giocando a fare sparing ma erano amici, cioè non hanno fatto niente e uno ha pensato male che si stessero picchiando e non ha chiamato la polizia. Chiunque sia stato un po' scemo, insomma qua è normale che qualcuno possa pensare male. Assolutamente non stavano facendo niente di grave. Episodio che segue di poche ore una rissa vera e propria ripresa in un video subito postato nei social in un'altra stazione delle Corriere, quella di Lungosile Mattei a Treviso dove si vedono delle ragazze, in questo caso, scambiarsi insulti, minacce e poi passare a schiaffi, pugni, calci. Ma Castelfranco reduce negli ultimi giorni da un'aggressione a colpi di San Pietrino e da una lite in cui è spuntato un macette e sta inanellando una serie di episodi preoccupanti a cui si va ad aggiungere sempre in mattinata la violenta lite tra due trentenni in via Borgo Montegrappa. Stamattina siamo rimasti un po' meravigliati oltre che spaventati. Vedo una persona addosso nudo al centro della strada che litiga con un'altra persona e arriva alle mani, inizia a picchiarsi, sembrava un far west, il panico che abbiamo provato in quel momento lì e soprattutto di impotenza, come facciamo a difenderci, è stato compensato dalle forze dell'ordine che sono arrivate, però la sensazione è stata di doversi chiudere in casa e avere paura. C'è un tema di panico, la gente osservava, stava lontana da due che si massacravano, si impichiavano al centro della strada. Io non ho mai visto, ho quasi 50 anni, una cosa del genere in una zona poi come il Veneto o comunque Castelfranco Veneto.